Abbiamo raggiunto l'obiettivo dei 3.000 iscritti, lo abbiamo anche abbondantemente superato, siamo ad oggi a 3.168 ma ancora ne stanno arrivando. Un dato importante è che c'è un 60% di persone che per la prima volta hanno deciso di sostenere il Partito Radicale iscrivendosi e che quindi pur avendo magari seguito negli anni le iniziative che abbiamo portato avanti, questa volta hanno deciso di sostenere e far vivere il Partito Radicale. Pur avendo magari seguito negli anni le iniziative che abbiamo portato avanti, questa volta hanno deciso di sostenere e far vivere il Partito Radicale. Contiamo e dobbiamo impegnarci perché il tempo è meno dello scorso anno di superare anche nel 2018 l'obiettivo dei 3.000 iscritti che la mozione prescrive e che ci consentirà di convocare un congresso ordinario. Noi abbiamo ottenuto un successo straordinario che dobbiamo confermare anche nel prossimo anno. Abbiamo superato, noi che siamo stati 700-800 iscritti ogni anno, abbiamo superato i 3.000 iscritti. e il 60% di questi sono persone nuove che noi non conoscevamo, che non erano i nostri indiriziari. Li ringraziamo uno ad uno perché hanno salvato il Partito Radicale, il Partito Voluto, fondato da Marco Pannella che noi vogliamo far vivere con quei connotati non violento transnazionale e transpartito. Noi speriamo che chi è iscritto al Partito Radicale sia continui ad esserlo da eletto di tutti gli altri partiti che concorrono alle elezioni. Ma il Partito Radicale in quanto tale neanche i radicali come tali definiti possono essere considerati presenti alle prossime elezioni. Ripeto, il Partito Radicale non concorre a nessuna elezione politica. Oggi al Teatro Sociale di Camoglia abbiamo presentato il Parco Nazionale di Portofino che nasce da un mio emendamento in legge di bilancio e che è diventato legge dello Stato. Un altro parco nazionale in Liguria dopo le Cinque Terre, due perle con una visibilità non solo nazionale ma internazionale. C'era tantissima gente, molti appassionati, associazioni e istituzioni locali. A distanza di 20 anni noi abbiamo avuto la soddisfazione di trasformare il Parco Regionale di Portofino in Parco Nazionale con annessa area marina protetta. Quindi la nostra regione, la bellissima Liguria, avrà a disposizione altri testimonial tra cui il Parco Nazionale di Portofino. Io credo che sia una bella notizia, una notizia importante con una scorta finanziaria adeguata di un milione di euro. Mi auguro che il processo di definizione dei confini per farlo partire in maniera definitiva sia veloce in maniera tale che all'interno del 2018 possa partire, dopo il decreto del Presidente della Repubblica, l'attività di questo nuovo ente che ha la voglia, la forza di conservare una storia, la biodiversità, un paesaggio unico e promuovere il Tiguglio, la Liguria. Innanzitutto parto da un dato. L'incontro di ieri è stato chiesto all'organizzazione sindacale e quindi io posso esprimere innanzitutto un giudizio non negativo della riunione di ieri. Ieri c'era la CGL, c'era USB e Feder Manager. Devo dire che la riunione comunque è stata una riunione proficua, franca, dialettica, però è importante perché ho detto delle cose molto importanti che sono state recepite con grande attenzione. Questo per quanto riguarda la strategia di ANM, il rilancio di ANM. Poi sul resto registriamo, l'ho già detto più volte in questi giorni, una risposta insoddisfacente sul fatto del 31 gennaio. Io voglio ancora sperare che all'ultimo minuto ci sia un cospicuo numero, un necessario numero di lavoratori che possa garantire alla città, ai napoletani, ai turisti un servizio che tra l'altro è rilevante per ragioni di sicurezza. Sì, in modo ricco di contenuti e di informazione per rafforzare comunicazione, devo dire anche innovazione, dettaglio, consentire la partecipazione dei cittadini con contenuti scritti ma anche con fotografie. È importante per noi comunicare il lavoro enorme che si fa in città, il lavoro che fa questa amministrazione e poi la nostra è tra le città più cliccate al mondo. Quindi immagino che anche chi si incuriosisce sulla città o vuole venire a Napoli vada sul sito dell'amministrazione, del comune, di chi rappresenta la città. Quindi è una grande responsabilità. Siamo contenti di questo obiettivo, è un sito devo dire molto funzionale, molto puntuale, molto preciso, che dà conto in modo corretto del lavoro che si svolge. Quindi non si tratta di politica, non si tratta di propaganda, non si tratta di opinioni, si tratta di fatti che servono a tutti per farsi poi un'opinione sulla città e sulle cose che si fanno sulle opportunità, sulle cose belle e sui problemi e le sofferenze su cui siamo ogni giorno impegnati. Anzi, quindi comincia un 2018 di maggiore robustezza, come dicevo prima, dal punto di vista amministrativo, finanziario, istituzionale ma anche politico, inizia una fase nuova e siccome la fase nuova non si annuncia nei suoi contenuti ma la si comunica nel momento in cui viene realizzata, in questi giorni si lavora per la creazione della fase nuova. Fase nuova sono i prossimi tre anni, perché i prossimi tre anni noi dobbiamo raggiungere tutti o quanti più obiettivi possibili che ci siamo dati nei due programmi elettorali della prima e della seconda elezione, soprattutto con riferimento ai servizi che sono la grande sfida. La questione legata alla norma, alle norme, è una questione che ho dovuto gestire personalmente nella consapevolezza che alcuni non ci credevano. E allora questo è un tema, perché siccome questa è una città che non navigherà mai nell'oro, è una città in cui non ci sarà mai un giorno che non ci sarà un conflitto sociale, non ci sarà mai un giorno in cui potremmo dire tutto a posto, come amiamo dire noi, io ho bisogno di essere sempre affiancato e non penso solo alla parte politica, perché qualcuno ha tirato i remi dentro anche non della parte politica mi sto riferendo e questo non va bene. Quindi con tutti i miei più stretti collaboratori noi dobbiamo fare un bel check e vedere chi se la sente fino in fondo, perché noi non costringiamo mai nessuno, ci mancherebbe altro, a continuare una sfida che per noi continua a essere rivoluzionaria, quindi De Magistris non è cambiato nel suo modo di intendere il rapporto con la città, con l'amministrazione e con la politica, ma che sia di grande affidabilità di governo, che noi abbiamo dimostrato, perché se questa città, non parlo di De Magistris solamente, non avesse avuto forza, credibilità, autorevolezza e concretezza, noi quel risultato nella manovra del bilancio non lo portavamo a casa. Quindi quello è un ottimo trade union che ci accompagna dal 2017 al 2018, quindi questa è la cosa che non mi è piaciuta tanto. Io dico che può darsi che sia un limite ormai un po' superato dal contesto globale, la rete, tante cose. Consiglierai però sempre quando ci sono questi limiti che obiettivamente possono essere considerati di discutere a fondo di che cosa fare, perché il tema delle regole contro le concentrazioni è un tema di attualità non calante ma crescente, anche se è un po' diverso da come si presentava 15 anni fa. Quindi non vorrei che immaginassimo di salvarsi la coscienza semplicemente eliminando i limiti di una stagione precedente. È ragionevole superare quel tipo di impostazione ma bisogna farlo in un quadro di antitrust più moderno, non semplicemente rinunciando a quelle cose. Sono argomenti sui quali sulla sottosegretaria Boschi ho detto quello che penso alcuni giorni fa e non ritengo utilissimo ripeterlo. Sulla Commissione, anche che qui mi sembra di essermi espresso, se il Parlamento decide di fare una commissione d'indagine io penso che il Governo non possa che rispettare questa decisione e considerarla come una legittima decisione parlamentare. Dopodiché ripeto che ho accolto con un certo sollievo il fatto che le audizioni di questa commissione a un certo punto, grazie al calendario, siano finite. Perché non credo che siano state utilissime, né ai fini di… vabbè, non credo siano state utilissime. Dunque, la prima decisione è chiaro che noi decideremo la data dell'elezione dopo che il Presidente della Repubblica, se lo riterrà, avrà deciso di sciogliere le camere. Sarebbe curioso deciderlo prima. Per quanto riguarda quel limite, che in Italia ha una storia che io conosco abbastanza da vicino, qualche parola in più sul capitolo dei diritti, un capitolo purtroppo incompiuto, ma per quanto incompiuto un capitolo storico. L'anno scorso le unioni civili, quest'anno abbiamo introdotto il reato di tortura, la legge sui minori non accompagnati, i provvedimenti contro la violenza sulle donne, il biotestamento. Io sono in Parlamento da 16 anni e vi assicuro che da 16 anni ho sentito parlare di unioni civili e di biotestamento. E sono contento di aver fatto parte, come Ministro degli Esteri, di un governo che ha approvato le unioni civili e di essere stato il Presidente del Consiglio di un governo che ha approvato il biotestamento. Ma io nei contatti che avrò con il Quirinale dirò quello che ho detto qui pubblicamente. Non ci sono segreti particolari. È molto importante che tutti noi rispettiamo il ruolo di regia del Presidente della Repubblica e di responsabilità del Presidente della Repubblica nei passaggi che ci attendono. La Costituzione parla chiaro. I governi durano finché non vengono sostituiti da un altro governo. Questo è quello che compete a me. Tappe, percorsi, decisione fanno parte dell'alta responsabilità del Presidente Mattarello. I bonus sono utili tant'è che li usa un sacco di gente, anche questo dei diciottenni. che cosa serve? Io posso fare solo due osservazioni. La prima, naturalmente, lavoro. E quindi, difendendolo anche con le unghie e con i denti, il Ministro dell'Economia ed io abbiamo voluto come misura economicamente più rilevante dell'ultima legge di bilancio, oltre all'eliminazione delle clausole di salvaguardia, la misura per facilitare l'accesso dei giovani al lavoro, la decontribuzione del 50% che arriva al 100% nel mezzogiorno. È un contributo. Mi auguro che venga utilizzato dalle imprese e che apra le porte del lavoro. In secondo luogo, credo che dobbiamo lavorare molto anche su, non sono affatto convinto che ci sia questa, c'è un attivismo sicuramente di estrema destra, ma non penso che sia un sentimento diffuso. Dobbiamo certamente lavorare sugli ideali, sugli ideali, grandi ideali che fanno forte la nostra Italia migliore, che è l'Italia del volontariato, l'Italia di quei milioni di persone e moltissimi sono giovani, moltissimi sono giovani che fanno queste cose in paesi africani, in paesi via di sviluppo, che lavorano per un grandissimo ideale che è quello di mettersi al servizio della propria comunità. Perché fare questo migliora la loro vita. La cosa che mi ha colpito di più, incontrando, da Presidente del Consiglio fa un sacco di incontri, incontrando le associazioni benefiche di volontariato, i medici in Africa, Sant'Egitto, ognuno, ce ne sono tantissime, è quanto fare queste cose aiuti chi le fa, oltre a chi riceve l'aiuto. Ma in cima alla nostra agenda, ne parlava anche il Presidente dell'Ordine dei giornalisti, le zone colpite da una sequenza senza precedenti di eventi sismici. Senza precedenti gli eventi sismici, senza precedenti le risorse e le norme che abbiamo messo in campo. Io di questo sono tranquillo. Sono meno tranquillo sui ritardi, sui tempi di realizzazione, su quello che ho definito qualche giorno fa il corpo a corpo continuo, che facciamo noi, che fanno i sindaci, che fanno con le strozzature gli intoppi burocratici. Qui vi chiedo aiuto se è possibile, lo chiedo solo su questo, ma non per silenziare, perché non c'è niente da silenziare, bisogna fare informazioni, ma per mettere in luce, quando ci sono e ce ne sono tantissimi, i segnali di ripresa di vita. Penso che non sia solo un dovere del Governo. Possono naturalmente influire in modo positivo tutte e tre le vicende che lei ha citato. Tuttavia, deve essere ovvio tra noi che noi possiamo avere nel 2017 sconfitto militarmente da Estra, Siria e Iraq, ma non siamo al riparo da minacce terroristiche. Sappiamo che le minacce terroristiche possono essere sia minacce di tipo complesso, quindi organizzate, ma sono spesso, frequentemente in diversi Paesi, minacce che vengono da singoli individui radicalizzati nel Paese. È diventata molto più difficile che in passato la prevenzione di questo tipo di minacce. Quindi l'unica cosa che possiamo fare è, credo, essere consapevoli che abbiamo forze di sicurezza e di intelligence all'altezza del loro compito e di ottimo livello e che tuttavia avere buoni apparati di sicurezza e intelligence sofisticate non cancella i rischi da questo punto di vista. Non confondiamo questo fenomeno epocale e globale al quale dobbiamo rispondere non con un protezionismo revancista, ma con un lavoro sulle diseguaglianze, perché le diseguaglianze sono diventate scandalose nella società contemporanea. Non confondiamo questo con una sindrome, a mio avviso, molto invece italiana, che invece è una malattia più storica, forse anche più difficile da affrontare, ma più specificamente italiana, che è la relativa scarsa considerazione di sé che il nostro Paese ha e che a me ha colpito molto. Io ho avuto il privilegio di fare per oltre due anni il Ministro degli Esteri e vi assicuro che noi siamo in giro per il mondo uno dei Paesi più amati, ammirati, considerati e invidiati del mondo. Sì, diciamo che è stato fatto il passo politico quello più importante, cioè l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri. Adesso però c'è il parere delle commissioni e i tempi si allungano, nel senso che le commissioni hanno tempo 45 giorni. Insomma, dobbiamo continuare a seguire l'Iter perché non vorremmo che proprio alla fine della legislatura si perda una riforma che è indispensabile per rendere più umane e più legali costituzionalmente le nostre carci. Grazie a tutti.